Questa potrebbe essere una delle recensioni più complicate della mia carriera, che termina altisonante, e la mia attività youtubica, perché c'è tanto da dire e ho paura di non riuscire a farvi capire bene il mio pensiero. Dunque, cos'è The Hate Show? È una serie Netflix coreana, survival game. Non a caso sono scattati immediatamente i parallelismi con Squid Game, che ci possono stare fino a un certo punto. Ed è un format, una struttura narrativa, che in genere mi fa impazzire, ma declinata in tutte le sue varianti. Io sono cresciuto leggendo i libri di Agatha Christie, quindi quando c'è un luogo isolato, da cui nessuno può fuggire, pochi personaggi, all'incirca una decina, in questo caso otto, che non si conoscono, devono interagire all'interno di una situazione estrema. Magari c'è un killer, c'è un omicidio, o magari devono semplicemente cavarsela. Ecco, in genere sono subito a bordo. Non a caso Lost, isola, luogo isolato, pochi personaggi, situazioni un po' improbabili, un po' misteriose. Quindi l'ho vista con grande voglia e dopo due barra tre puntate ero innamorato. Innanzitutto perché la regia è quella delle grandi occasioni. Ci sono piani sequenza interessanti, scelte, a volte metanarrative quasi teatrali, specie nel raccontare il passato del protagonista nella prima puntata. E c'è anche un umorismo di fondo, un po' macabro, ma sempre presente e funzionale, perché il personaggio di cui seguiamo maggiormente le sorti è un po' uno di quei teneri idioti a cui vuoi bene, che non riesci a detestare, perché stempera, perché anche nella situazione più drammatica riesci a farti venire un sorriso, un personaggio veramente cruciale nelle narrazioni di questa tipologia. Quindi, all'inizio, grande convincimento e grande voglia di capire dove sarebbero andati a parare. Poi arriva la fase centrale, dove io non voglio farvi spoiler, ma iniziano i contenuti forti. E per me non rappresentavano un problema, diciamo che sapevo quello che ero andato a cercare. Lo intuisci fin dall'inizio, che ci sarà della violenza, di che tipo poi, ve lo lascio scoprire. Ma, a tratti, ho cominciato a sentire un certo fastidio. Non solo, emergono quelli che per me sono i limiti dell'operazione, che sono essenzialmente due. Poi c'è il terzo che è cruciale, ma cominciamo dai primi due. Punto numero uno. Va bene che alcune dinamiche non vengono chiarite e possiamo perfettamente intuire che questi otto personaggi non siano stati scelti a caso. Però parliamo, per alcuni di loro, di sociopatia pura. Ma a livelli di cattiveria e di dissociazione rispetto all'etica, al buonsenso, all'empatia nei confronti dell'altro, che probabilmente in confronto donato bilancia, avrebbe detto, sì ma basta. Forse i serial killer, anche i più efferati, davanti a certe cose, un minimo di contegno. Sto estremizzando. Però intendo dire che certe cose risultano efficaci anche quando riusciamo a capire i personaggi, riusciamo a fare quello, riusciamo a capire quello che fanno. E qui siamo ai limiti del macchiettistico, in alcuni casi, del sono cattivo perché sono cattivo. In sottofondo c'è una riflessione sul dislivello sociale, che sarebbe anche interessante, però espresso in questo modo rischia forse di banalizzare il concetto. E poi sfortunatamente è una storia questa che va avanti in più di una circostanza perché i personaggi sono dei deficienti. e va bene, noi siamo spettatori freddi, c'è la sospensione dell'incredulità, loro sono calati in un contesto di forte stress, di fortissimo stress, quindi non pensi a certe cose, quindi la disperazione, i sentimenti vengono amplificati, si riflette sul fatto che stando per molto tempo in un luogo isolato, si dimentichi il mondo esterno e la tua realtà diventino quelle quattro mura, interessanti anche nell'ottica di tanti reality. Però, davvero, a me sono venuti in mente cento modi diversi per risolvere alcune delle situazioni più spiacevoli. Non solo, ad un certo punto si crea una situazione di stallo, per cui la serie e lo show starebbe finendo anzitempo. E io vedevo che c'erano ancora tre puntate, cosa succederà mai? Succede che un personaggio è un imbecille. È un imbecille. Fa una cosa che non ha senso da nessun punto di vista. e la storia procede, si infittisce, diventa ancora più malata, perché questo personaggio fa qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Zero totale. E poi arriviamo all'ultima parte di questa mia esperienza. Perché? E qui arriva il colpo di scena. Io, vedendo l'ultima puntata, anzi, stavo sbagliando, la penultima puntata, la settima di otto, ad un certo punto ho alzato bandiera bianca e ho detto basta. Mi sono fermato. Non ho più avuto voglia di andare avanti. Perché, voi direte, se è arrivato alla penultima puntata, manca poco. la frustrazione, il disgusto, stavano dominando su tutto. Non mi divertivo più. Non mi divertivo più. Ho proprio trovato una reazione, ho spento. E ho cercato di interrogarmi sul perché io abbia spento la televisione. e ci sono forse due chiavi di lettura. Da un lato, ciascuno di noi è sensibile a cose diverse. Ciascuno di noi è sensibile a tipi diversi di violenza. Evidentemente, questa serie TV è andata a parare su un frangente che magari nemmeno io conoscevo. Nemmeno io sapevo di essere particolarmente sensibile a certe cose. E quando me le sono trovate davanti, ho detto stop. Strano, eh? Perché io sono uno tra quelli che generalmente quando una cosa è fatta apposta per scioccare e disgustare ride. Io guardando la saga di So l'Enigmista molto spesso rido. Ma non perché trovi comico quello che avviene, ma perché è talmente esplicito il desiderio di fare schifo che probabilmente la mia mente elabora e mi fa ridere. Qui invece non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Questa serie, poi mi direte che sono troppo sensibile io, che sono un'educanda, ma questa serie è equiparabile a tanti prodotti che fanno parte della categoria cinema estremo. Mi sorprende, non voglio fare un discorso da bacchettone, cercate di capirmi, mi sorprende che Netflix la proponga con tanta facilità. Poi ovvio ci sono le scritte che avvertono, ma mi stupisce che non ci sia un bannerone grande così che avverta le persone più sensibili di stare lontane. perché è veramente pesante. È veramente pesante. Io ho passato tutta la giornata di ieri tutta a ripensare a quella scena che mi aveva fatto spegnere. Mi è rimasta qui tutto il giorno. E io sono io, chissà un ragazzino. quindi non sto invocando la censura e la rimozione, ma magari qualche avvertenza in più. Ma probabilmente bastano le scritte in alto o a sinistra, quindi va bene. Ma davvero, ho provato quello schifo che ho sentito a vedere per gioco, per scommessa, alcuni film estremi. Quindi, questa è la prima chiave di lettura. ho raggiunto un limite, cosa che in parte mi consola perché ascoltando podcast di true crime, guardando serie su omicidi, leggendo libri thriller con delitti e ferati, a volte mi sono domandato ma non sto diventando un po' insensibile? E invece no, c'è ancora qualcosa che mi dà fastidio. Quindi, paradossalmente, posso anche essere contento. Ma qual è la seconda chiave di lettura? E questo forse è un fallimento della serie o forse un gioco metanarrativo, ma questo non ve l'ho detto, ma i concorrenti, queste otto persone, vengono sempre guardati dalle telecamere. Sempre. E chi sta dall'altra parte gode delle loro sofferenze. Io mi sono accorto di una cosa. Per sette puntate io ero esattamente uno di quelli dietro la telecamera che guardava questi otto stronzi che stavano male aspettando di capire cosa sarebbe successo dopo. Io ero tra quelli e non mi è più andata bene come cosa. Quindi ho spento la telecamera a conti fatti. Ho detto basta, io mi dissocio questo gioco non fa più per me. È un cortocircuito interessante. Quindi purtroppo non dico che non finirò mai di vederla. Magari tra qualche giorno mi preparo psicologicamente e mi metto sotto per arrivare alla fine. ma ho anche parlato con alcune persone che mi hanno detto quella roba che ti dà fastidio dura per un'intera puntata e anche in parte per quella dopo e io non credo di potercela fare. A che scopo poi? È intrattenimento non deve essere sofferenza per me poi c'è chi invece vuole vedere cose che gli diano fastidio per provare delle sensazioni comprensibile esiste un bellissimo canale che si chiama Shiva Produzioni che riflette proprio sui film estremi sulle serie estreme fossi loro dedicherai una parentesi a The Hate Show magari l'hanno già fatto magari lo faranno io però ho alzato bandiera bianca quindi mi dispiace dovermi fermare qui ma posso leggere alcune delle vostre considerazioni e sottolineo alcune perché io non sto facendo spoiler e gradirei che anche voi faceste la stessa cosa c'è una super chat dell'utente Still Luke che io ringrazio tantissimo ma non posso rispondere perché anticipo a chi non ha visto la serie un elemento molto importante quindi non posso rispondere o forse posso rispondere non leggendola ma ci sono tanti utenti presenti in chat per la differita non è un problema lo capisco non è una critica la mia sto cercando di farvi presente che purtroppo mi trovo in difficoltà nel leggere alcuni vostri commenti comunque chi è in chat la già letta la risposta è sì vediamo se ci sono dei commenti che possono essere letti in tranquillità vediamo un pochino sarebbe interessante capire se fosse voluto far immedesimare negli spettatori o nei partecipanti o magari anche in entrambi su piami diversi credo che l'idea sia quella di farti identificare con alcuni dei personaggi con almeno alcuni di loro e si può dire che abbia funzionato perché mi dispiaceva vederli sottoposti a certe vessazioni angherie quindi non si può certo dire che questi personaggi mi siano rimasti indifferenti però dall'altra parte credo che non ci sia questa grande caratterizzazione e che in ogni caso anche avremmo provato lo stesso livello di empatia e di dispiacere per degli illustri sconosciuti perché certe cose non possono essere normali e allora ritorniamo a uno dei miei problemi perché per alcuni personaggi queste cose sono normali di quali disturbi soffrono di quali patologie siamo arrivati alla sociopatia esagerata ma che vita avevano queste persone cos'è successo per renderli così aspetti interessanti forse che da quanto so non vengono raccontati a me non ha dato fastidio la violenza ma il fatto che è tutto assolutamente gratuito e di il come perché avviene così stupido da diventare frustrante assolutamente d'accordo infatti ho parlato anche di questo aspetto la stupidità dei personaggi la gratuità troppo 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 una differenza importante da Squid Game è che lì conoscevamo nomi storie dettagli del loro privato non sempre qui si tende alla depersonalizzazione e molti diventano stereotipi di caratterizzazione un po' è vero un po' è vero risalendo la cosa curiosa è che ci sono chiaramente dei villain ma gli sceneggiatori ti portano ad odiare di più altri due tre personaggi sì la stupidità di alcuni è tale per cui li vorresti morti li vorresti morti no poi specifico ovviamente mancandomi l'ultima puntata può darsi che mi manchi un pezzo fondamentale per valutare il messaggio quello che gli autori volevano fare è in dubbio però sono arrivato a un momento in cui non ne potevo più e ogni tanto secondo me fa anche bene parlarne parlare dei nostri limiti delle nostre debolezze delle nostre difficoltà che poi è paradossale trovare tutte queste cose quando si è seduti comodamente sulla poltrona e ci si vorrebbe distrarre un po' dalla giornata e invece e invece no no mi spiace adesso non entro nel dettaglio ma per quel personaggio non ci sono giustificazioni non ci sono giustificazioni di alcun tipo bisogna essere dementi bisogna essere affetti da una demenza clinica riconosciuta e invece questo personaggio è estremamente funzionale in più di sei puntate non ci sto non ci sto proprio è una grossolaneria a livello di scrittura che mi ha lasciato disarmato tu lì non provi fastidio perché è terribile quello che succede provi fastidio perché è una minchiata totale e non ci posso passare sopra secondo me siamo alla fine comunque di questa trattazione credo che siamo veramente arrivati alla fine c'è chi domandava se avessi visto Alice in Borderland sì e a me quella è piaciuta tantissimo ovviamente inserita all'interno di un contesto spiccatamente nipponico e fumettistico quindi ci sono personaggi esagerati che dovrebbero morire mille volte non lo fanno mai e c'è un finale che non mi ha fatto impazzire però è molto divertente se vi piacciono certe cose c'è chi potrebbe trovare eccessiva anche Alice in Borderland in particolare c'è una puntata che a livello psicologico e concettuale è bella tosta bella tosta però non mi ha dato fastidio così quindi salutiamo definitivamente momentaneamente di Hitcho e procediamo oltre di Hitcho Grazie a tutti.